Stran'invenzione quella dei miei colleghi in questi studios del ventunesimo secolo Si è bellissimo, doc senti dobbiamo caricare la DeLorean e cominciare a muoverci, d'accordo? Io, il grande doc, l'inventore della macchina del tempo Ah doc, a Gerrando ha fatto un buco nel serbatoio della benzina, perciò dovremo ripararlo e poi fare il pieno Grande Giove